L'organizzazione di un torneo, di una finale è sempre onerosa, però il buon Norberto Pellichiano, presidente e le lauree a Sassari, continua a sorridere perché il nome è tutto un programma. Allora è vero che siete una società con tanti danari? No, in realtà no, non so, c'è questa diceria ma dietro ci sono solo io e il mio amico Paolo che abbiamo 27 anni e insomma facciamo dell'organizzazione il nostro forte. Purtroppo le nostre forze sono gli sponsor che ci hanno dato una grossa mano. Quest'anno non ci siamo autofinanziati perché fino all'anno scorso c'è stato anche un discorso di quote tra i ragazzi ma insomma quest'anno abbiamo provato a fare un po' uno step in più e infatti la squadra si vede perché può contare dei giocatori che per volontà sono scesi di categoria dalla Serie C a darci una mano insomma in questa impresa che speriamo possa avere un lieto fine in queste Final Four. Abbiamo parlato con il vostro coach, d'altronde insomma quando si parla della famiglia Basoli io dico proprio famiglia perché proprio ce l'hanno nel DNA, il basket, c'è una certezza che in primi ci si diverte ma poi c'è anche quello che è il rapporto della serietà che poi alla fine, lo dicevo poc'anzi, non contiamo le categorie perché poi il basket è sempre quello. Certo, con Carlo ci conosciamo dall'Under 17, dal nostro gruppo di Bisin che poi è il nucleo anche di questo spogliatoio di questa squadra con il capitano Goddi, Pischedda, Matteo Satta che è un po' l'ossatura di questa squadra Gerardo Langiu, molto importante per noi io ho fatto molto affidamento su Carlo che è un ragazzo che conosco ormai da 10-12 anni è stato lui a formare la squadra insomma ci sentiamo ogni giorno, ormai lo sento più di mia madre ovviamente perché ci coordiniamo in tutto e per tutto e diciamo il mio braccio destro, l'altro il mio braccio sinistro è chiaramente Paolo Rubattu che insomma diciamo è il direttore operativo un po' del tutto dove non arrivo io, lui è un buon braccio armato, sai la burocrazia noi siamo pochi e è quella che è E comunque parliamo delle partite sabato le due semifinali il laurea che incontrerà la squadra di Nuoro per la carriera di Nuoro che arriverà anche in maniera abbastanza come posso dire sul pezzo perché loro ci tengono molto e poi Arzacchena contro Baschetti del 90 speriamo davvero possa essere un buon fine settimana in bocca al lupo e ci vediamo qui al Palabunker Grazie mille, sì diciamo che Nuoro è sempre stata ostica storicamente come squadra tant'è che nel loro campo Alconi abbiamo perso una delle tre sconfitte stagionali in regular season storicamente loro come le Final Four dello scorso anno a Ozzieri vengono molto numerosi e ci aspettiamo insomma che succeda la stessa cosa quest'anno Arzacchena è una novità di quest'anno insomma ha costruito una squadra basata su una spinna dorsale argentina sono cinque o sei adesso non mi ricordo i giocatori i giocatori argentini quindi sarà una bella gatta da pelare però anche Baschetti del 90 è una società storica è formata insomma il nucleo di ragazzi under 17 che sono arrivati in finale regionale sono molto ben allenati, ben organizzati chiaramente poi coadiuvati dal gruppo più esperto e storico che insomma gli ha permesso di fare il colpo finale in gara 3 e raggiungere queste Final Four contro il Santa Croce Bene, saremo qua a raccontarvelo e per adesso stay tuned Grazie mille